Allora, a parte il respiro che ripeto è sempre discreto e qualche prurito un po' sulla testa per la circolazione, ho assistito alle iene, ma mi non so come se non le guardo mai, una trasmissione terribile delle iene e c'è un psicologo che parla, quale descrive la situazione femminile, parla di questo stupro eccetera 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 e ha fatto un quadro abbastanza preciso, scientifico e ha detto una frase che ha destato la fine del mondo, che in ogni donna c'è nascosta ora prostituta. Allora mi è venuto in me Nietzsche, Nietzsche è stato un grande filosofo tedesco, dico bene? Chi è il professor? Nietzsche? Il quale diceva che in ogni uomo sonnecchia un porco, mi ho sempre detto che nel mio purtroppo la sonnecchia un gran poco, se l'è per quel, ma in ogni modo a parte questa considerazione, allora non si offendano perché Nietzsche la dica in ogni maschio sonnecchia un porco, allora anche in ogni donna probabilmente non lo sanno, probabilmente la donna non lo sa che potrebbe avere questo istinto. Ma se voi doveste andare a analizzare, come mi è capitato di analizzare, io ho visto delle donne che hanno perso la testa per degli uomini e hanno fatto una famiglia e alcune con cui avevo una certa confidenza, mi dicevano, eh dottor se il savesque lì le stavano di tirarmi fuori quella parte sessuale che aveva dentro che mi aveva vergogna di esprimersi perché avevo paura di essere giudicata che mi marì il pensesche magari mi. Eh, è vero. Poi il condomio quel Morelli non ha detto una cosa, non è detto che tutte le donne sono prostitute o che tutte le donne sono disponibili a fare le prostitute. Questo è un altro discorso, bisogna scendere. Però, 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 come in ogni uomo sonnecchia un porco, probabilmente in ogni donna sonnecchia una prostituta, visto così. Ma non è detto che tutte le donne poi facciano le prostitute, perché ci sono. Però, però, probabilmente se una donna riesce o incontra quel maschio che riesce a farle, a estrarre da lei quella parte che lei inconsciamente tiene nascosta, io credo che, aiutatemi, queste ragazze, come dice quel psicologo, hanno nascosta dentro di loro una prostituta. Ma per venire a tutte queste donne che vanno dichiarando che il tal regista le ha stuprate, mi avevi un nervoso, mi avevi dentro un nervoso. Perché quante persone per arrivare in carriera hanno stuzzicato i registi, stuzzicato i produttori, perché i gemetesle mamados e andando a letto con loro forse avrebbero fatto carriera? Perché non le dice alcune queste cose? Perché io sono convinto che tantissime di quelle che adesso ha 40 anni di distanza, ma perché non le ha detto subito? Ma perché non l'hanno detto subito? Voglio aspettare 40 anni per dire che... No, 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 non me la raccontano. Io credo che c'è stata una certa collaborazione, una certa istigazione. E poi sapete, certe frasi è vero, è vero, noi maschi in certe cose stiamo scorretti. È cambiato il mondo. E cambiamo il mondo. Quello Hoffman ha fatto una dichiarazione a quella ragazzina sul clitoride. Sono battute che noi maschi qualche volta purtroppo, purtroppo facciamo. Ma è la questione del Nietzsche che dentro in ognuno di noi sonnecchia quel maialino, capisci? Ogni tanto salta fora. Certo che fa pensare, e l'ha detto questo signor psicologo, che delle persone dicano questo, allora potrebbe, e l'ha detto il psicologo, dice, questa potrebbe essere una bravola per destare l'interesse. Siccome le sta tramontando e stanno uscendo di cena, tirando fuori la storia dello stupro, diventano di nuovo importanti. E così appaiono ancora sulla cronaca. Ma in realtà, adesso stai stuprare, dice lo psicologo, io ci metterei un bel punto di domanda. Perché potrebbero essere state anche loro che in maniera indiretta hanno stuzzicato quell'altro per mettergli le mamma d'ossi. Con ciò io concluderei, perché so, immagino, che dopo questa trasmissione ci sarà tanti, e ospia, non penserà mica che sarà qualche donna, chi che mi ascolta dirà, ma mi hai mai pensato perché non ti hai trovato quel giusto, cara? A questo punto, il punto sta qua. E sta anche, è vero, perché la morale, la morale nella vita ha la sua importanza. Ma perché ha la sua importanza? Perché probabilmente se ognuno di noi facesse tutto quello che gli viene per la testa e non ci fosse la morale che lo ferma, non so che cosa succederebbe. Con ciò vi saluto e mi preparo per una prossima puntata per tappare i buchi di Telegarda. Buonasera.